Io credo che come la Chiesa dobbiamo noi cercare di come Cristo per gli Apostoli era il punto di riferimento importante e così noi per la Chiesa anche persone che vengono qui per la confessione o altre cose dobbiamo essere seri e punta di riferimento. Poi anche il problema è la migrazione, la migrazione è come in mezzo all'oceano c'è la difficoltà di queste persone che vengono in altri paesi perché sono estrema difficoltà e noi dobbiamo aiutare perché Cristo è aiutato e perché lui è appunto un riferimento importante come spessore, di sacrificio e di impegno e dedizione per il cristiano.